Ciao amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un breve video su come creare un simpatico e carino contenitore con il bambù. Se vi interessa, rimanete con me. Andiamo! Ciao amici! 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 Sono tre modelli diversi. Uno, due e tre. Fatemi sapere quello che vi piace di più, ok? Ebbene amici! Sì! Siamo giunti al termine. E... E... Per la visione. E... 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 E...